In questo video parleremo del controllo numerico della scala di stampa. Nel video precedente, la scala apparente del modello è stata modificata in tempo reale semplicemente zoomando senza avvalersi di strumenti per il preciso controllo numerico dei parametri di scala. Ora, invece, clicchiamo sul perimetro di un dettaglio in modo da accedere alla finestra delle proprietà e impostare una ben precisa scala di stampa. Così, per ottenere ad esempio una stampa nella scala di 1 a 100, impostiamo la relazione di una unità di misura, nel nostro caso un centimetro, nello spazio carta, cioè sul foglio virtuale 2D del layout, equivalente a 100 unità di misura, nel nostro caso 100 centimetri, nello spazio modello, cioè nello spazio di lavoro 3D. Attenzione però! Come già detto in precedenza, è importante equiparare le unità di misura del layout e del modello 3D prima di impostare la stampa. Una volta impostati i parametri di scala, mediante il comando PAN è possibile centrare manualmente la vista secondo le esigenze del caso, mantenendo inalterata la scala di stampa. Avendo quindi definito il layout, inserito i diversi elementi grafici e precisato lo stile di visualizzazione e gli altri parametri di maggiore interesse, utilizziamo infine il comando PRINT per eseguire la stampa del layout impostato. Si aprirà la finestra di dialogo di stampa, che presenterà una serie di parametri preimpostati di default, in base a quanto scelto al lato della creazione del layout. Sono tutti modificabili alla bisogna. Procedendo con ordine, impostiamo la risoluzione grafica del nostro file di stampa a 300 dpi, cioè 300 punti per pollice, dot per inch, corrispondente a una buona resa grafica, e scegliamo di stampare su carta nel formato A3. Passando al tipo di output, scegliamo Vector Output se intendiamo lavorare il file in modo lossless, ovvero senza perderne le proprietà geometriche, in modo da poterlo ulteriormente editare, una volta importato, in Illustrator o in qualsiasi altro programma di grafica vettoriale. Scegliendo invece l'opzione Raster, il file non sarà più editabile in ambiente CAD, ma potrà comunque esservi importato come immagine bitmap, cioè come una fotografia o una fotocopia. Si faccia poi molta attenzione al sottomenu View and Output Scale. Poiché il layout è già stato impostato come un foglio virtuale di formato A3, se vorremmo confermare la stampa su formato A3, dovremo controllare che il fattore di scala tra il nostro Layout e l'output di stampa, Output Scale, sia pari a 1 a 1. Questo parametro non agisce quindi sulla scala del modello, ma sulla scala dell'intero foglio di stampa che contiene le viste del modello. Evitiamo l'opzione Scale to Fit per evitare di perdere il controllo sulla reale dimensione del layout di stampa, che in tal caso verrebbe semplicemente adattato all'area di stampa di default della specifica stampante selezionata indipendentemente dal fattore di scala precedentemente impostato. Per concludere, affrontiamo una comune operazione, molto ricorrente in ambito architettonico, e importiamo nello spazio di lavoro 3D del modello vettoriale una mappa raster tramite il comando Picture, sulla quale ci proponiamo di collocare poi, facendolo combaciare, il modello 3D. Si tratta di una mappa cartografica del contesto urbano di riferimento ottenuta da una fonte ufficiale. L'immagine, posta sul piano orizzontale, deve essere scalata. L'operazione può essere svolta in due diversi modi. Nel caso la mappa sia dotata di uno scalimetro grafico, possiamo disegnare un segmento di riferimento allineato ad esso di lunghezza pari alla lunghezza reale indicata numericamente sullo scalimetro, riportandola fedelmente nell'unità di misura del modello 3D. Nel caso in cui la lunghezza del segmento da noi disegnato e dimensionato non coincida con quella dello scalimetro presente sull'immagine, possiamo utilizzare il comando Scale2D per scalare l'immagine, portando le due lunghezze a combaciare. Nel nostro caso, il segmento di riferimento da noi tracciato è stato preventivamente definito di lunghezza pari a 5000 cm, equivalenti a 50 m reali, ovvero alla lunghezza reale indicata sullo scalimetro. Che cosa accade però se nell'immagine non è presente uno scalimetro, bensì soltanto l'indicazione numerica di scala, ad esempio 1 a 1000? In tal caso, se la mappa non risulta già in scala dopo averla importata, occorrerà scalarla graficamente a partire da un elemento lineare di lunghezza nota in essa presente. Nel nostro caso possiamo ripetere le operazioni precedenti, ma per farlo dobbiamo partire da una misura conosciuta. In questo esempio conosciamo a priori la lunghezza reale di questo muro. Dunque, disegnando nello spazio modello un segmento di pari misura allineato ad esso, possiamo ancora una volta scalare correttamente l'immagine nello spazio carta. È importante notare che in questo caso, ovvero in presenza di un'immagine raster, l'identificazione dei punti di riferimento è più difficoltosa e meno precisa e affidabile, dato che gli elementi grafici al progressivo ingrandimento non risultano nitidi come nella grafica vector, ma sgranati in quanto costituiti da pixel. Occorrerà quindi ben valutare la scelta dei punti di riferimento o di appoggio prima di eseguire la scalatura, anche in base al grado di approssimazione ritenuto accettabile. Scalata la mappa, occorre ora orientarla con i consueti metodi. Posizioniamo quindi l'immagine in modo da allinearla al modello 3D, utilizzando in sequenza dapprima il comando Move e successivamente il comando Rotate, e avvalendoci di due punti di riferimento significativi e affidabili. In alternativa, avremmo anche potuto utilizzare il comando Orient3pt. Per concludere, generiamo un nuovo layout in cui visualizzare l'elaborato realizzato. Segnaliamo al proposito che è buona prassi per costituirsi dei layout in cui il cartiglio ed altri elementi che si vogliono utilizzare come elementi ricorrenti nelle varie tavole di stampa siano create una volta per tutte all'inizio. Tali layout modello o layout template potranno essere così ogni volta variamente editati, modificando le viste nei singoli dettagli e gli elementi di ciascun layout, pur mantenendo sempre una certa continuità e uniformità complessiva del progetto grafico. Infatti, il grande vantaggio della stampa tramite layout è che essa consente di progettare infaginazioni grafiche di tavole anche molto complesse e soprattutto facilmente riutilizzabili per successive elaborazioni, a prescindere dalla scala dei disegni che compaiono nelle finestre di dettaglio e perfino dallo specifico modello 3D prescelto, dato che è sempre possibile inserire ulteriori contenuti esterni. Per sfruttare questa possibilità, una volta preparati e archiviati, il layout predefinito possono essere richiamati e inseriti tramite il comando import layout. Sfruttiamo dunque immediatamente questa possibilità. Utilizziamo il comando import layout per selezionare dalla finestra di dialogo così aperta un precedente salvataggio del file su cui abbiamo lavorato finora. Con il comando import layout potremo aggiungere al nostro progetto ogni layout contenuto nel file appena selezionato. Nel nostro caso è stato così aggiunto un layout appositamente realizzato in precedenza chiamato template. Al suo interno troveremo alcune semplici forme che potranno essere utilizzate come riferimento per generare il nostro nuovo layout di stampa con maggiore facilità. Sfruttando quanto abbiamo appreso finora, inseriamo quindi un dettaglio per mostrare una vista planimetrica del progetto. Impostiamone infine il rapporto di scala, a nostra scelta in base alle specifiche finalità del caso, ad esempio la scala di 1 a 500. Concludiamo mostrando un'ulteriore elaborazione grafica ottenibile proseguendo la lavorazione del layout finora impostato. Nel prossimo video esamineremo come personalizzare le principali proprietà grafiche caratterizzanti alla stampa di elaborati architettonici, ovvero il colore, lo spessore e il tipo di linea.